Ho eliminato gran parte della lana, come potete vedere non c'è più lana, qui c'è la rossetta che cade, comunque ho tolto tutte le coperte di lana, ho messo asciugamani, 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 sto eliminando mano a mano tutto, anche se ora è nuvolosa abbiamo potuto pulire con la pompa, lavare tutto, io sono ancora il preda alla cattura, ora vi mostro le stanze e tutta la pulizia che ho fatto oggi, grande spaccamento di sedere, ora devo fare la flebba a rochi, la flebba a margot, la terapia a willie e iuri e poi posso ricominciare con le gabbie e tutto quanto, ecco qui ho tolto tutta la lana, come potete vedere, adesso solo asciugamani, asciugamani pulite dovunque, lì c'è margot, ora vi faccio la flebba, vero crispy, tutto l'abbiamo alleggerito parecchio, 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 il tempo però che gli metto questi cerchietti, queste ceste, distruggono pure queste, quanto prima gli metto più nemmeno questa, la lana è proprio stata torta totalmente, hanno gradito le asciugamani pulite, alcuni posti li ho lasciati in classica soltanto così, ci risparmiamo qualche lavatrice magari, ho lasciato le ceste, già queste sono pulite ed è la seconda volta che gli metto pulite perché già le prime le hanno fatte fuori, ma vado da qua così faccio prima, così vi mostro anche il mare di lavatrice che già ho fatto, qui ci sono il mare di lavatrice che ho lavato oggi, tutta la lana che sto smaltando, sì sì, ora ricominciamo, qui c'è Arianna, forse il mare di lavatrice che sta camminando molto velocemente perché mi sai, e ora vi mostro mentre, ora farò le flebbo, devo continuare comunque a lavorare, qui i panni logicamente sono aumentati perché posando tutta la roba di lana, qui si è rotta la porta Erika non mi ha potuto aggiustare il gancio, quindi la roba posata, mentre gli asciugamani ne ho pochissime, infatti sono quasi finite, questi li ho tutti lavati e quelli li devo tutti lavare e lei sta quasi finendo un'altra e oggi ne ho lavati una marea, questa ora l'ho finita e ho acceso quell'altro, ora ne faccio un'altra ancora, altre due penso da questa sarà, penso da di mezzo questa fila, così domani se c'è qualcos'altro da lavare, sicuramente c'è tutte le ceste, i cuscini che saranno lì, avrò un modo di smaltirli. Grazie. Grazie. Grazie.